Mister, ancora agosto si è vista però una partita molto intensa da entrambe le parti, possiamo dire un tempo per squadra? Sì, penso di sì, credo che il primo tempo loro sono entrati meglio in campo, hanno fatto soprattutto la prima mezz'ora bene, abbiamo preso gol, molto probabilmente potremmo prendere anche qualcun altro, poi niente, poi al secondo tempo, come hai detto tu, siamo usciti fuori bene noi, abbiamo fatto una buona gara e molto probabilmente forse il pareggio alla fine ci poteva stare. Però insomma noi ci prendiamo la prestazione e chiaramente certo c'è da lavorare soprattutto nel primo tempo dove comunque la squadra è stata un pochino paurosa, questo non deve succedere, però insomma queste partite servono anche per questo, io poi sono nuovo quindi sto cominciando a conoscere un po' i ragazzi adesso e quindi è normale che c'è ancora tanto da lavorare. Abbiamo visto che ha cambiato anche assetto tattico durante la gara, passando a un 3-5-2 può essere un'alternativa anche per l'intera stagione? Sì, sì, noi diciamo che in questo periodo abbiamo fatto sia il 3-5-2 che il 4-3, quindi ma noi in prospettiva quando arriverà Esposito, molto probabilmente giocheremo col 4-3, però insomma la squadra sa fare anche il 3-5-2 e quindi in certi frangenti insomma si può fare anche quel tipo di modulo. Capitolo obiettivi, quali sono quelli di questo team in questa stagione? Non per te cercare di fare bene, poi il bene non so dove possa arrivare, insomma dove possiamo arrivare, però noi cerchiamo di fare, insomma di giocarci partita dopo partita e poi alla fine vedremo che cosa succederà. Le chiedo anche un'impressione sul Barletta. Il Barletta è una buona squadra, è una squadra molto fisica, quindi messa bene in campo, insomma io credo che il Barletta farà sicuramente un buon campionato, anche se loro hanno un girone molto difficile, però mi è sembrata una squadra già in buone condizioni. A proposito di gironi, sono stati ufficializzati in settimana, il vostro raggruppamento come lo valuta? Ma era quello che ci aspettavamo, è molto difficile perché è molto livellato, quindi si può vincere con tutti ma si può anche perdere con tutti, quindi alla fine sarà importante ogni partita prendere con la mentalità giusta.